Caro amico distributore buongiorno, sono Germano Zanini, solo per dirti che fra qualche ora ti porteremo come ogni mese le copie di giornale Pantheon. Questo numero 84 è veramente bello, incredibile, ricco di emozioni, vedrai che anche i tuoi clienti saranno contenti. Due cose da dirti al volo, la prima che siamo in distribuzione quindi col nuovo espositore, quindi se tu lo desideri abbiamo l'opportunità di darti per il tuo negozio proprio il nostro porta giornali che permette anche uno spazio dedicato poi per la tua attività. In secondo luogo invece è importante per premiarti del fatto che ci ha aiutato in questi anni a costituire una bella community di veronesi protagonisti, sono, pensa, 80.000 elettori di Pantheon, vogliamo proporti il progetto Ambassador Premium. Cosa vuol dire essere ambasciatore di giornale Pantheon? Vuol dire avere l'opportunità di condividere la promozione di tanti prodotti e servizi del territorio. Siamo a tua disposizione per ogni chiarimento e ti ringraziamo ancora per condividere questo progetto di crescita della nostra Verona. Grazie.